Tutti preoccupati i follower di Elena Di Cioccio, ex inviata delle Iene che ha pubblicato una foto su Instagram con tante di stampelle e tutore al ginocchio La Di Cioccio, infatti, dopo la svolta sexy di qualche giorno fa, sembra essersi infortunata proprio ad una gamba, nulla di grave, come lei stessa spiega su Instagram Stories Solo una distorsione, ma di sicuro nulla di piacere In un altro post, ha poi ringraziato i suoi sostenitori per essersi preoccupati per lei Intanto, i suoi fan possono prepararsi ad ammirarla in squadra mobile 2, spin-off di distretto di polizia, insieme a Giorgio Chirabassa, Antonio Catania, Marco Rossetti, Miriam Dalmazio, Pippo Crotti, Anna Ammirati, Valeria Bilema Elena è anche stata concorrente di tale e quale show e celebrity MasterChef Italia Grazie per la visione